Sei pronto per la prossima seduta? L'economia è in crescita. Un benessere per tutti. Lei ci crede? Non avrebbe mai ucciso. Quando regnano il silenzio e la solitudine. Un vento di paura e dolore. Verso la luce della verità. Non devo avere paura. Suggerisce che il ritorno ai valori e ai principi della tradizione passi attraverso le bastonate? Babylon Berlin. La nuova stagione. Dal primo aprile su Sky Atlantic. Dot comune gravinistica. La nuova才zia.